Musica Aggredisce i vigili urbani vicino alle scuole Arrestato un 19enne di Sasso Corvaro che girava a Pesaro con un macete nascosto nei pantaloni Accusa un malore alla guida e si schianta contro un'auto in sosta morto a Senigallia un 65enne di Iesi La regione chiude tutte le scuole superiori da sabato 27 febbraio Schizzano i contagi da coronavirus che tornano a superare quota 700 In aumento anche i ricoveri e 5 i decessi A Pesaro il comune annuncia le date del secondo screening nelle scuole Da chi ha perso il lavoro a chi ha rivalutato il valore del tempo Ecco come il covid ha cambiato la vita delle persone Praticamente tutto Perché siamo reclusi in casa Io ho tre figli E quindi Trascorrere tutte le giornate con tre figli Con tutte le problematiche che poi ne conseguono Non è facile Scomode e gelate non si placano le polemiche sulle nuove panchine installate al molo del Lido a Fano E c'è anche chi ne ha misurato la temperatura L'assessore Brunori annuncia altri interventi e ribadisce le precedenti non erano sicure Sarà pronta in poche settimane la nuova rotatoria di Via del Ponte a Calcinelli di Colli al Metauro Ma l'opera scatena le critiche di alcuni cittadini a placare le polemiche il sindaco e l'assessore Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia Apriamo con l'arresto di un 19enne di Sasso Corvaro Che girava a Pesaro con un coltello tipo macete infilato nei pantaloni Il fatto si è verificato questa mattina alle 8.30 in Via Guido d'Arezzo a Pesaro Sul posto una pattuglia della polizia locale che si trovava in servizio davanti al campus scolastico Quando gli è stata segnalata una rissa davanti all'Istituto Benelli Alla vista degli agenti il gruppo di giovani si è disperso Ma uno di loro continuava a inveire contro gli altri Poi si è allontanato verso Via Solferino facendo disperdere le tracce La pattuglia però è riuscita a rintracciarlo Il ragazzo ha rifiutato di farsi identificare e ha colpito gli agenti con lo zaino Poi si è scagliato su uno dei due facendolo cadere a terra Il 19enne ha cercato di colpire anche i colleghi sopraggiunti nel frattempo Insieme ad una pattuglia del Norm Carabinieri Durante i momenti di concitazione è emerso che il ragazzo aveva infilato nei pantaloni Un coltello con una lama lunga 35 cm che gli è stato immediatamente sequestrato Il giovane ha continuato a mantenere un atteggiamento di resistenza e violenza Anche una volta portato all'interno del comando Dove sarà trattenuto fino all'udienza Un plauso è arrivato dal sindaco Matteo Ricci Con il loro coraggioso e tempestivo intervento Hanno impedito che l'accaduto degenerasse con conseguenze peggiori Un abbraccio ai due vigili Ha scritto su Facebook il primo cittadino A loro un augurio di pronta guarigione e la vicinanza di tutta l'amministrazione comunale E adesso la sanità con i contagi che aumentano nelle Marche L'ordinanza di chiusura delle scuole superiori da sabato in tutta la regione Intanto proseguono i vaccini e i tamponi A Pesaro la prossima settimana riparte lo screening scuole sicure Ma il monitoraggio si allarga anche alle scuole medie del territorio Le Marche rischiano di tornare in zona arancione Il verdetto dovrebbe arrivare domani da Roma Ma preoccupano i parametri registrati e i contagi in crescita Nell'ultima giornata sono tornati a superare quota 700 I casi di positività al coronavirus Si tratta del secondo valore più alto rilevato da inizio anno Dopo quello del 5 gennaio scorso Ma con un record di nuove diagnosi nelle ultime 24 ore Che sono state 5625 tra test antigenici e molecolari In aumento anche i ricoveri tutti nei reparti non intensivi Il governatore Francesco Acquaroli starebbe valutando l'ipotesi di chiudere le scuole Intanto prosegue il ritmo serrato e la campagna di vaccinazione In pochi giorni sono state somministrate oltre 11.000 dosi agli anziani over 80 E si sta predisponendo alla piattaforma per la prenotazione dei vaccini Per le categorie cosiddette dei servizi essenziali Come gli insegnanti e le forze dell'ordine A cui secondo le indicazioni del ministero e del commissario Saranno riservate le dosi di AstraZeneca Ieri ne sono arrivate 18.700 di vaccino Pfizer e 2.500 di Moderna Ma l'assessore alla sanità Filippo Saltamartini Si aspetta una riduzione futura delle fiale Per questo è fondamentale correre ai ripari Per velocizzare l'operazione di immunizzazione Il piano B per Saltamartini consiste nel produrli direttamente in Italia E perché no anche nelle marche In contemporanea la macchina organizzativa messa in campo Dalla regione e dalle aree vaste A Pesaro prosegue il secondo giro di screening agli studenti voluto dal comune E oggi sono state annunciate le date Ecco il calendario Si parte giovedì prossimo La mattina dalle 8.30 alle 13.30 Sarà riservata agli istituti superiori I pomeriggi del 4 e 11 marzo Dalle 14 alle 18.30 Sarà la volta delle scuole medie Quelle coinvolte sono la Dante Alighieri Galileo Galilei Don Gaudiano Leopardi Pirandello Manzoni Tonelli Nuova Scuola E Olivieri Potrà sottoporsi al tampone anche l'accompagnatore Cioè un familiare maggiorenne dell'alunno Oltre al personale docente e ata Nel primo screening hanno ricordato il sindaco Riccio E gli assessori della Dora e Ceccarelli Sono state tamponate 5.100 persone Di cui 16 risultate positive Ma per aumentare l'efficacia del monitoraggio Hanno detto Bisogna renderlo periodico almeno mensile Nella prossima settimana verranno effettuati sopralluoghi E l'annuncio della giunta Acquaroli È arrivato nel tardo pomeriggio Dopo un confronto con il mondo della scuola È stato deciso di chiudere tutte le scuole superiori Da sabato 27 febbraio per una settimana In provincia di Ancona invece dove la situazione è più critica Oltre alle superiori chiuderanno anche le scuole medie Dunque la didattica a distanza al 100% E questa decisione però non piace al sindaco di Pesaro Matteo Ricci Fate i tamponi Non chiudete Ha commentato il sindaco Troppo facile è chiudere tutto Scaricando i disagi sulla scuola e sulle famiglie È una scelta sbagliata e miope Una scuola sicura si può fare Ha concluso Ricci Basta volerlo E sempre nelle Marche sono 5 le persone decedute con Covid-19 nell'ultima giornata Si tratta di 4 donne e un uomo tra i 62 e i 97 anni Tutti con patologie pregresse 3 persone erano della maceratese Mentre 2 anziane erano residenti rispettivamente ad Ancona e ad Ascoli E ancora cronaca Accusa un malore mentre guida perde il controllo dell'auto E finisce prima su marciapiede Poi contro una macchina ferma nel parcheggio di un'attività commerciale Tragedia questa mattina a Senigallia Dove è morto un 65enne di Iesi L'uomo era a bordo di una Fiat Panda dell'Azur Quando si è sentito male Immediata la chiamata al 118 Da parte di una operatrice socio-sanitaria Che stava attraversando la strada Con figli e nipote Il 65enne è stato primo a soccorso con le manovre di rianimazione Poi è stato trasportato in ospedale Dove però ne è stato constatato il decesso Sul posto anche i vigili del fuoco A supporto della polizia locale Che ha svolto i rilievi del caso La compagnia Carabinieri di Urbino Invece ha arrestato un 58enne di Fermignano Già sottoposto a misura alternativa Dell'affidamento in prova ai servizi sociali E destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere Emessa dal Tribunale di Ancona Per violazione di queste misure L'uomo che poi è stato condotto nel carcere di Villa Fassigi È stato fermato a bordo dell'auto Durante un servizio straordinario di controllo Predisposto dall'arma Finalizzato a prevenire e reprimere reati in genere E volto alla verifica delle norme anticontagio Diverse le pattuglie dislocate Nelle principali arterie di Urbani e Fermignano In totale i militari hanno identificato Oltre 60 persone e controllato Più di 55 veicoli Multato anche un cittadino Per guida in stato di ebrezza A 12 mesi di distanza dai primi casi di coronavirus Oggi abbiamo chiesto alle persone Che cosa è cambiato nella loro vita In questo anno di pandemia Il servizio di Angelica Panzieri A distanza di un anno da quella che fu definita Una pandemia mondiale Siamo andati a chiedere alle persone Come è cambiata la loro vita Tra chi ha perso il lavoro Chi è rimasto recluso in casa per mesi E ancora ne soffre Fino a chi ha rivalutato grazie al covid Il valore del tempo Così è cambiata in un anno La vita dei pesaresi Cos'è cambiato nella sua vita in un anno di covid? Beh innanzitutto ho iniziato a fare del sanissimo yoga E mi è andata via la cellulite finalmente Per fortuna poco rispetto ad altra gente Però insomma si stava meglio prima Penso sia universale Ecco Lei il covid l'ha avuto oppure no? Per fortuna no Speriamo di continuare così Ho la fortuna che il Padre Eterno Mi ha fatto il regalo Che mi ha detto Tu sei esente Quindi tu stai tranquillo Che tu per i prossimi anni Vado tranquillo Quindi questa è una notizia Che mi ha fatto il coraggio Le abitudini sicuramente E anche il modo di vedere la vita I valori della vita La quotidianità è cambiata sicuramente tanto E basta Che cosa le ha insegnato questa malattia? Diciamo Come è cambiata la sua vita in un anno? Ma allora diciamo che Per quanto riguarda gli affetti Così sono Siamo tornati un po' alle origini Magari il valore della famiglia Più tempo insieme eccetera Però sono delle restrizioni Che comunque All'ideolo psicologico Ci hanno cambiato tanto E mi auguro che Finisca più presto ecco Tutto guarda Io organizzavo eventi Nel settore delle discoteche E quindi vi lascio immaginare Cosa si è cambiato È un anno che non lavoro Noi siamo fermi E soprattutto non solo siamo fermi Non sappiamo quando ripartiremo Mai Ma ha cambiato tutta la nostra vita Specialmente a noi vecchietti Mentre prima andavamo a fare la passeggiata Andavamo di qua Andavamo di là Adesso niente Siamo rinchiusi dentro casa Dove vai? Io abito in centro Una città alle 5 e mezza È morta È morta Non c'è un'anima viva I negozi in via Branca La metà hanno chiuso Lei mi dica come possiamo vivere A me Io ormai Sono vicina agli 80 anni Me ne frega Fino a un certo punto Ma i giovani Come fanno? Io ho 4 nipoti Che sono rinchiusi dentro casa Da quanto è cominciato È mai possibile una cosa del genere? Praticamente tutto Perché siamo reclusi in casa Io ho 3 figli E quindi Trascorrere tutte le giornate Con 3 figli Con tutte le problematiche Che poi ne conseguono Non è facile Anche far capire loro L'importanza Di questo periodo Che è molto faticoso Per noi E ancora di più per loro Perché a livello relazionale Questi ragazzi Sono praticamente isolati E adesso torniamo a parlare Delle panchine installate La scorsa settimana Lungo il molo Tra il Lido e l'Arzilla Fano Perché continuano ad arrivare Delle segnalazioni Dei frequentatori Della passeggiata A rispondere alle polemiche Oggi è l'assessore Barbara Brunori Che annuncia anche Altri lavori di riqualificazione Ad una settimana Dall'installazione Delle nuove panchine In marmo Sul molo del Lido di Fano Continuano le segnalazioni Da parte di coloro Che dopo una lunga passeggiata Avevano piacere Di sedersi Per riposarsi Ed osservare il mare Ma che ora A causa delle nuove sedute Si limitano a scrutare Il paesaggio Restando in piedi Definite da molti Scomode E poco funzionali In quanto ad alcune Manca lo schienale Il problema principale Delle nuove sedute Rispetto alle vecchie Secondo molti fanesi È che soprattutto In inverno Sono fredde Talmente tanto Che qualcuno Ha pensato Di misurarne La temperatura Con un termoscanner Per mostrare La differenza Con le vecchie E più calde Panchine in legno A rispondere Alle numerose segnalazioni È l'assessore Al decoro urbano Barbara Brunori Sono panchine Che avevamo in magazzino Da un anno Nel frattempo Che abbiamo fatto Dei rilievi Con la ditta Per la conformità Delle panchine Che erano Quelle di legno Che erano prima posizionate Sul molo Abbiamo riscontrato Che la maggior parte Non erano in sicurezza In quanto Tutta la salsedina Le aveva danneggiate Per cui Dovevamo Per forza Rimuoverle Abbiamo pensato Di poter posizionare Queste panchine Di fatto Anche innovative Perché comunque Hanno un design moderno Senza Pensare magari A quelle che potevano Essere Le controindicazioni Del caso Per cui Mi sono subito Adoperata Con l'azienda A richiedere Di provvedere Ad una seduta Che mettesse In sicurezza Un po' Quella che è la parte Che si bagna Richiedendo di mettere Eventualmente Delle listelle Come quelle che sono Sullo schienale E di provvedere A mettere Degli schienali Laddove non sono previste Perché ci sono panchine Tutte aperte Per cui Questa settimana Penso Forse o domani O lunedì Al massimo Arriveranno qua Verificheremo insieme Se questa cosa È fattibile Perché naturalmente Poi ci devono essere Anche delle conformità Rispetto al design originale E provvederemo Le segnalazioni Che sono arrivate Ha poi continuato Brunori Non riguardano Solamente le panchine Ma anche il manto Della passeggiata Del molo Che presenta Alcuni punti ammalorati Quando mi sono insediata La prima cosa Che ho chiesto Era proprio un preventivo Per la messa in sicurezza Di quella passeggiata E rispetto Il preventivo Che appunto Contemplava Un valore di 70 mila euro Mi sono sentita Di bloccarmi Perché io vorrei Ripristinarla Con un manto A mosaico Quindi con una passeggiata Importante Che non sia fatta Dello stesso Materiale In cui è oggi Proprio per dare Perché quello È un luogo prestigioso Come diciamo noi tutti Per cui Quell'intervento significativo Andrà al prossimo anno Per il momento Lo metteremo Tamponeremo Diciamo Quelle che sono Un po' Le parti più ammalorate Infine l'assessore Ha annunciato Anche alcuni interventi Che saranno fatti Entro il mese di giugno In varie zone Del Lido di Fano La riqualificazione Della cavea Con una nuova Illuminazione scenica Ed il restyling Del verde Con la sostituzione Dei pitosfori Con delle palme Ed anche in questo caso Una nuova illuminazione Metterò mano Anche sul sottopasso Del Lido Dove Non solo Lo puliremo Di fatto Ma coinvolgendo Anche la scuola Lo abbelliremo Nelle parti laterali Con dei mosaici O disegni Che appunto Le scuole Stanno Liceo artistico In questo caso Sta lavorando Oltre questo Anche con una nuova Illuminazione Più potente E permetterlo Anche in sicurezza E a finire Nel merino Dei nostri Telespedatori E' stata anche La nuova rotatoria Di calcinelli Nel comune di Cogli al Metauro Servizio di Filippo Pucci E' quasi pronta La nuova rotatoria A calcinelli Di Cogli al Metauro L'opera Fortemente voluta Dai cittadini Dagli automobilisti Ha il compito Di snellire L'ingresso E l'uscita Dalla superstrada Facendo defluire Meglio Il traffico Per le vie Del paese Se da una parte La rotonda Realizzata Sia dalla provincia Che dal comune E' piaciuta Ed è rimasta utile Altri Già puntano il dito Sulla sua progettazione Su come si poteva Fare di meglio O sullo stato Del manto stradale A placare le polemiche E' il sindaco Il sindaco di Cogli al Metauro Andrea Giuliani Che rassicura tutti Sullo stato di avanzamento E sulla conclusione Dei lavori Sì la rotatoria È sicuramente un'opera pubblica Tra le più attese Del nostro comune Ha avuto Una vicissitudine Abbastanza complicata E travagliata Negli ultimi anni Però certamente Oggi vediamo Il traguardo Ovviamente Ancora la rotatoria È in fase Di esecuzione Quindi i lavori Sono ancora in corso E necessiteranno Almeno Un altro Mese Un mese e mezzo Anche due forse Di lavori Per portarla a termine Nella completezza Del progetto Con questo intervento Aggiunge invece L'assessore ai lavori pubblici Pietro Briganti E' cambiato l'accesso In alcune vie Abbiamo deciso Di realizzare Un senso unico In via Venezia E oltre al senso unico Ci sarà la possibilità Di realizzare Un percorso perdonale Sul lato Lato sud Di questa strada Che verrà Evidenziato Attraverso Un rifacimento Di quello che è Il manto stradale Da qui ci saranno Anche tutta una serie Di inserimenti Di quelli che possono essere Dei divieti A partire da Via Pisa Che non avrà più L'accesso In via Venezia E anche Via Firenze Che verrà invece Lasciata Con il doppio senso Di circolazione E a seguito Anche di queste Modifiche Che porteremo In via Venezia Sicuramente Ci sarà Un miglior afflusso Quello che è Il semaforo centrale Quindi un miglior Snellimento Di quello che è La viabilità Ma sono anche altri Gli interventi Come l'asfaltatura Del tratto Di via Ponte Metauro Un'illuminazione a led E la realizzazione Di un nuovo marciapiede Verranno realizzate Hanno già Addirittura Appaltato I lavori Un doppio marciapiede Dal lato Quindi sia ovest Che est Della rotatoria A scendere In direzione Di Monte Maggiore Marciapiedi Dell'ampiezza Di un metro e cinquanta Ciascuno Che oltrepasseranno Quello che è Il cavalcavia Della superstrada E a ciò Si aggiunge Un ulteriore intervento Di realizzazione Di marciapiedi Nella parte nord Praticamente La rotatoria Solo sul lato sinistro Verso il lato Fossomorone Lato Lato ovest Ad opere E a spesa Del nostro comune E certo Che ci sono Tre criticità Nel corso Della giornata Più che altro Durante l'orario Di uscita Dalle fabbriche Da parte Dei lavoratori Che determinano Un maggior afflusso Di vetture Però abbiamo Constatato Che in primis La problematica Principale Cioè La formazione Di code Sino all'interno Della superstrada Non si sta più formando Un progetto Per il rilancio Turistico Della città di Fano Per valorizzare Il territorio E il patrimonio Culturale È l'obiettivo Del piano strategico Per il turismo 2020-2024 Realizzato Dalla comune Di Fano Insieme al Destination manager Iosefe Iar Che in servizio Di Letizia Marchionni Uno strumento Fondamentale Per il rilancio La crescita Del turismo E dell'economia Della città È stato presentato Ieri Il piano strategico Per il turismo 2020-2024 Il progetto Del comune di Fano Guidato dal Destination manager Di fama internazionale Iosefe Iarc Che mira A stabilire Le basi Per lo sviluppo Sul piano turistico Della città Della fortuna Valorizzandone Il territorio Ed il patrimonio Culturale Rendendo Fano Maggiormente percepita Dai mercati Un piano Un piano Un piano realizzato In un momento Cruciale E difficile Come quello Del covid Che tiene conto Di come la pandemia Abbia modificato Le necessità Dei turisti Dettando le regole Per una ripresa Ed un percorso Di crescita Che va dal 2021 Al 2024 Il piano contiene Una serie di parti organizzative Come organizzare il lavoro E ci dice che dobbiamo organizzarlo Sì con la regia Dell'amministrazione comunale Ma anche nel rapporto Con le associazioni Con i privati Quindi dobbiamo realizzare Delle vere e proprie reti Di prodotto Il piano ci dà Degli input Su delle azioni concrete Per valorizzare I nostri cluster culturali Quindi la città di Vitruvio La città del Carnevale La città dei bambini e delle bambine Capire come questi progetti Possono essere maggiormente Vissuti con delle esperienze Il piano ci dice Come è meglio vendere La nostra città Al di fuori delle nostre mura Quindi qual è la visione Che dobbiamo dare Al mercato turistico E quindi parla In questo caso Di città green and blue Quindi parla del nostro mare E parla della possibilità Di vivere la città In modo green In modo sostenibile In modo tranquillo In modo sicuro E detta tre principali prodotti Che sono il family Sul quale già stiamo lavorando In questo anno L'outdoor e il well-being Il well-being è la qualità della vita Ecco Da questi macro prodotti Si sviluppano tutte quelle Che sono le caratteristiche Della nostra città Il piano ci dice Che dobbiamo lavorare insieme Ha continuato Lucarelli È una partenza Per un cammino Che dovremo condividere Noi come amministrazione Assieme alle attività economiche E dalle associazioni Lavorando in sinergia Per far crescere il turismo Una volta che la pandemia Sarà passata Farsi trovare pronti Per portare gente Nella nostra città E valorizzare E far vedere Le nostre bellezze Il nostro territorio Perché ricordiamoci Che il nostro territorio È talmente ricco È proprio una perla incastonata No? Come abbiamo sempre detto Nella nostra regione È importante Noi come associazione di categorie Abbiamo fatto veramente Degli incontri importanti Con l'assessorato al turismo E con EIARC E abbiamo cercato Di dare il nostro contributo Proprio perché portare gente Crea appunto economia E bisogna riportare tutto questo Nella nostra città La cittadinanza onoraria Ad Antonio Guterres Nonno segretario generale Delle Nazioni Unite È la proposta Del sindaco di Fano Massimo Serri Deliberata dalla Giunta Nel 2016 La più alta onorificenza civica Fu conferita a Divan Il bimbo è nato in mare Successivamente Ospitato insieme a sua mamma In una struttura fanese Vogliamo costruire Un ponte ideale Tra il massimo esponente Dell'ONU E Divan Ha spiegato il primo cittadino Per testimoniare la speranza Per una nuova umanità Che rifuga la violenza E a niente la discriminazione Mi auguro che questa nostra decisione Sia un auspicio Affinché venga garantita a tutti La stessa fratellanza Ma anche la medesima giustizia sociale E a proposito di primo cittadino Vi annuncio che lunedì sera Sarà nostro ospite Il sindaco di Pesaro Matteo Ricci Vedete qua tutti i numeri Di riferimento Tra l'altro Il 338 4968 250 E proprio il numero di telefono Dedicato anche alle vostre Segnalazioni fondamentali Per la nostra redazione Grazie per averci seguito E buona serata a tutti voi Grazie a tutti ieri Grazie a tutti ieri